weee non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi grandissime novità trafugate per quanto riguarda la season 2 di fortnite oramai il l'argomento più caldo in questi giorni dopo l'annuncio ufficiale di epic games del posticipo della season al 20 febbraio che però ha lasciato dei buoni propositi in quanto dalla patch 11.50 che è quella che dovrebbe arrivare ai primi di febbraio vedremo già le prime modifiche a livello grafico ve ne avevo già parlato il nuovo motore fisico implementato nella real engine farà vedere davvero i suoi progressi ma nel video di oggi ragazzi parleremo di appunto un paio di immagini che poche ore fa sono state inviate ad alcuni dei leakers più famosi e volevo appunto vederli insieme a voi ma ci sono anche novità per quanto riguarda il set icon avete presente il nuovo set dove per esempio la prima skin che è stata implementata è quella di ninja quindi le icone che hanno permesso a fortnite di accrescere il proprio successo nell'ambito dello streaming su twitch su mixer su youtube insomma sulle piattaforme principali e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi sulla piattaforma viola dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per la vostra compagnia è sempre un piacere stare con voi mi raccomando però iscrivetevi al canale youtube e all'altro canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima e dai e dai la domandina te la devo fare te la faccio sempre ti pare che oggi non ce la faccio una domandina molto curiosa ragazzi è la prima volta che ve la faccio e fa così ma te se dovessi scegliere preferisci uno stack da 3 di scildoni o 6 scildini uno dei due lo devi scegliere quale preferisci se io dovessi scegliere sinceramente do sempre la priorità agli scildini perché sono più sono più fast no sono più fast insomma fammi sapere quello che tu sceglieresti qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciancio andiamo subito a parlare di questi leaks ecco qua ragazzi alla vostra destra arrivano due immagini adesso li andiamo a vedere più in grandi a possible leak of the upcoming season 2 cinematic più maps was posted on for chan allora ci sono appunto due immagini che l'utente for chan ha pubblicato sulla sua pagina e ha spedito privatamente ad un gruppo ristretto di leakers il problema è che alcuni dicono ho ricevuto un messaggio privato da questo utente for chan c'è da dire che è tanto a quanto mi risulta che non si sentiva la voce di for chan quindi essere tornato così non si sa non si sa però giustamente loro dicono non è confermato nulla anche perché se queste fossero immagini vere dei alcuni leaks beh avete già notato subito che c'è una cosa che ci salta all'occhio ovviamente sto parlando della chiazza viola sopra foschi fumaioli in realtà questa chiazza viola non sarebbe così sbagliata da vedere in quanto se ci ricordiamo il trailer della season 2 dava proprio si faceva proprio vedere il pezzettino dove il mostro slurp quello che c'è nel pass battaglia vedeva e guardava proprio foschi fumaioli con tutto il liquido viola che straripava se notiamo bene però c'è anche una particolarità sembra che entrambe le centrali nucleari siano esplose infatti sono proprio di velte una insieme all'altra c'è anche una cosa particolare per quanto riguarda pantano palpitante come vedete oltre ad avere un numero come si dice un incremento molto più ampio del succo slurp anche nella zona in alto vicino alla foresta e nella zona a destra dove ci sta brughiere brumose piano piano me la ricordo memoria anche io la mappa il terreno sembrerebbe essere un pochettino più a tema desertico che con la vegetazione questa invece è la seconda immagine che è stata inviata e come vedete c'è il pescatore e sotto il tris di skin appunto di cui vi parlavo prima il medico il lo slime o strega non mi ricordo il nome della terza skin la cosa un po però strana è che in realtà andando approfonditamente a vedere e a zoomare sopra le due ciminiere di foschi fumaioli un utente dice ho concluso che questo leak potrebbe essere un fake infatti se guardiamo bene entrambe le ciminiere e le rapportiamo a quando nella mappa c'era il cratere sembrerebbe che siano semplicemente due immagini del cratere messa una vicino all'altra e se guardate bene effettivamente ha una somiglianza notevole quindi potrebbe magari essere un fake come tutti vi diciamo prendete con le pinze anche perché per il momento di ufficiale non c'è proprio nulla in realtà qualcosina c'è e la potete vedere anche voi in mappa più precisamente dovete andare nella casetta sotto sabbie sudate se non capisco non ho capito male questa casetta deve essere l'unica che c'è quella con la piccola pozza d'acqua no è successo qualcosa something is happening to this house of south o sweet is and qualcosa è successo alla casa sotto sabbie sudate the furniture inside is being moved outside cioè la roba che c'era in casa è stata portata fuori e come vedete c'è una parte di muro completamente demolita adesso questa è una cosa che non può passare inosservata perché che senso ha che modifichino la casa vicino a sabbie sudate ora io non so se possa essere associato a questo questo cambiamento a qualcosa della storyline perché non mi viene assolutamente in mente nulla c'è da dire però che vi invito ad andare a dargli una controllata perché qualcosa è accaduto magari vi accorgete di qualcosa che a me è sfuggito e arriviamo all'ultimo argomento di oggi parlavamo a inizio video delle icon series praticamente le skin che vanno a ritrarre le icone che hanno reso fortnite ancora più celebre e una di queste potrebbe essere la skin vai che io sinceramente questa simpatica ragazza non conosco non ho mai visto non so chi sia credo che si parli di streamer esteri che potrebbe avere la sua icona in ben tre varianti con una maglietta nera con una maglietta bianca o altrimenti con i pantaloni rossi e la parte sopra grigia insomma molto interessante anche questa nuova icona se per caso qualcuno di voi la conosce sicuramente sa di chi sto parlando insomma ragazzi anche per oggi le news sono finite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao grazie grazie